Sono Anna Amadori, sono un'autrice, vi consiglio Grandi Speranze di Charles Dickens, Underworld di De Lillo e La Scopa del Sistema di David Foster Wallace. Perché? Cioè vi consigli questi tre libri? Sono tre romandi bellissimi, hanno tutti e tre un legame che mi piacerebbe che chi li legge lo scoprisse.